Ora il tema della sicurezza nelle grandi città. Dopo i recenti fatti di cronaca, i sindaci di Napoli, Roma e Milano ne stanno discutendo proprio in questi minuti col ministro dell'interno Piantedosi. Diego Dionoro. Grandi città, problematiche comuni, stesse esigenze, più agenti delle forze dell'ordine, soprattutto di notte, e maggiori strumenti nelle mani del sindaco. Queste le priorità sottoscritte dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, e che con gli omologhi di Milano e Roma, Beppe Sala e Roberto Gualtieri, sono oggetto in questi minuti di un incontro da remoto con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Se a causa degli ultimi eventi criminosi a Napoli emerge con forza l'esigenza di un impiego maggiore delle forze dell'ordine e quindi di un più capillare controllo delle strade, da Roma e da Milano si chiede al governo un sostegno per migliorare il sistema di illuminazione pubblica e per incrementare quello di videosorveglianza. Con l'aumento costante dei flussi turistici e l'affollamento di strade, piazze e almeno per Napoli gli imminenti festeggiamenti per la sua squadra di calcio, diventa così un'urgenza la soluzione delle problematiche sollevate dai sindaci.